Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Spider-Man. Allora gente, come abbiamo già detto, abbiamo preso un pochettino di tempo per fare un sacco di missioni secondarie nell'ultime puntate, ma... ma... il fatto è che mi sono accorto, e mi sarei dovuto accorgere prima in realtà, che effettivamente ci sono tanti punticini e tante cose che ancora non ho sbloccato e con tutta probabilità si sbloccheranno nel corso del tempo, quindi sapete che cosa? La mia volontà di girare per la città e fare missioni secondarie è un po' sfumata, ok? Preferisco andare avanti con la principale, perché tanto comunque un po' di cose l'abbiamo fatte e dobbiamo ancora capire quanta rilevanza hanno queste cose secondarie, perciò adesso ci prendiamo un po' di tempo per fare la storia principale, per fare quello che il gioco ci dice di fare con le missioni primarie, e poi, più in là, fra un pochino di tempo, vedremo che cosa fare con le altre missioni secondarie e quando si sbloccheranno un po' per volta, perché se ne stanno sbloccando di vari tipi e effettivamente, insomma, non voglio annoiarvi troppo. Ok, vabbè, questa però conviene farla. I demoni sono fuori controllo. Ora attaccano anche la polizia. Insomma, ragazzi, questa storia di distruggere New York ha stancato. Ci siamo? A posto. Sì, ci siamo. Perfetto. Ah, crimini dei demoni, adesso. E praticamente questa è una cosa in più. Giusto? Eh, ah, crimini di teppisti, crimini demoni, ma mi sa che sono diversi di posto in posto. Vabbè, va bene. Quando li incontro, questi qua li faccio perché comunque sono utili, danno parecchie esperienze, eccetera. Tava, va. Giusto, giusto. Signori, non è così che funziona un bancomat. E quello non è un bancomat. Wow. Che cosa diavolo è questa cosa? Wow. Ahia. Oh. Oh. Porca miseria, maledetta. C'è miseria. Oh, è difficile anticiparli questi qua. Sono tosti. A posto. Andata. Ok. I demoni non sono una gang. Eh, me ne sono leggermente accorto. Grazie. Allora, vediamo di andare qui. Vai. E se mettono anche solo un piede nel cavo, avrò la tua testa. Ricevuto, capo. Triplico la sicurezza. I demoni non hanno speranza. State allerta! I demoni stanno attaccando i nostri depositi. Stanotte ne abbiamo già persi due. E il capo sarà anche in prigione. Ma nessuno tocca la sua merce. Controllo, Eagle 2. Sei sveglio? Eagle 2, rapporto. Tutto a posto. Cosa cercano i demoni in quei deoschi? Devo neutralizzare gli uomini di Fischi e scoprire cosa sorvegliano. Non posso lasciare che il bottino resti a loro o finisca in mano ai demoni. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di loro. Quel cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Ok, beh. No, non è una buona cosa. Ah, è sicuro adesso? Ok. Quello? Porca miseria. Allora, vediamo un po'. Quello... Direi di andare lì. Vabbè, i cecchini, io direi di... Allora, da che parte mi conviene andare per beccare quello? Mi sa tanto. Ma che diavolo... Spider-Man è qui! Cosa Spider-Man è qui? Ma di che stai parlando? Non rompere le palle. I codici su queste scatole sono sempre un casino. Qui vedo Z23, CR17 e D... Ok. Oh. Porca miseria. E' questo mo'? Che gli racconto? Se non altro! Gli sbirri combattono da uomini! Come faccio a... C'è qualcuno che ho detto che non te l'aspettavi. Eh, vabbè. Beccato. Adesso. Cos'altro c'è? Vediamo se questo riesco a... Beccarlo... In questa maniera. Ho riuscito a tirare... A tirare qualcuno? No. Cosa fine della corsa, ragno? Bam! Ok. Aspetta, c'è qualcun altro qui? Sì. Chi è là? Fantastico. Sepra 3! Accidenti! Qualcuno vado a verificare! Vado a dare un'occhiata! Top! Ma non sono rimasti in tanti, effettivamente. Potrei pure attaccare... Semplicemente. Pure se ce la faccio arrivare là... No. Mi sa di no. Sì, invece. Adesso sì. Grande. Oh, cacchio. Ok. Ok, ciao. Lì. Beh, non è che... BAM! Ok. No, questa l'ho voluta fare molto furtiva. È ancora qui! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perfetto. Grande. Cacchio. Ho come l'impressione che mi abbiano un filino visto, vero? Appena scendi ti ammazzo! Grazie. Grande. Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Come ti chiami? Agente Davis. Chiamami Jeff. Tu sei? Ti prende in gira. Mio figlio ti adora. Allora, con quel mandato posso spondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok. Troverò un'altra entrata. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in frantumi. Controlla sul retro. Andrei io, ma... Beh, non sono Spider-Man. Ah, guarda un po' cosa c'è qui. Ah, guarda un po' cosa c'è qui. Ok, ci siamo. Siamo entrati. Sembra di essere in un film dell'orrore. Ehi là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso. Ok, dov'è la porta chiusa? Oh. Ma dai. Ok. Uno storditore. Fantastico. Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Ah. Usando la pistola assordente puoi creare la ragnatella elettrica. Grande. Ragnatella elettrica sbloccata. Molto figo. Ah, ci sarebbero anche potenziamenti, giusto? Beh, questo direi di farlo. E questi altri non li posso fare assolutamente. Ehm... Spider-Drone. Questi sono bloccati. Questo... Beh... Sì. Vabbè, comunque. Sì, ragnatella elettrica. Hai l'animo da inventore. Mi ricordi mio figlio. Hai iniziato a smontare le tv a cinque anni. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto? Ok. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì che è una delusione, eh? A prima vista. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Dai un'occhiata. Ti sembra vuoto? Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Vediamo se le mie lenti rilevano i condotti. Ah, ok. Lì un'altra centralina dovrebbe esserci, no? Esattamente. Funziona? No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. No? Beh. E quell'altra dove sarebbe? Oh, andiamo. Ah, ma perché... Ok, ho capito. Sì, sono un idiota. Grazie. Non l'avrei mai aperta da solo. Dubito che l'avrei trovata senza di te. Qui non c'è un bel niente. Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Noti niente a terra? Ah, ah. Possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Dobbiamo trovarne altri. Ok. Cerchiamo altri segni. Ehm... Dove possono essere? No, guarda un po'. Quali segni, quindi meglio... Bingo! Segni e niente porta. O almeno io non la vedo. Perfetto. Arrivo subito. O forse no. L'ascensore è rotto. Aspetta, ti tiro su io. Dove, 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 dove? Primo piano. Catafalchi arrugginiti. Tobi tagliaforte. Attento, il ponte è fuori uso. Ci penso io. Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Eh, giusto. Un'altra porta segreta. Io penso la serratura. Avvertimi quando trovi la centralina. Ok, vado. Mmm. Che simpatia. Allora. Andiamo lassù. Questo... Beccati questo. Ehi. Perché non... Vabbè. Dai, andiamo. Sistemata. Grandissimo. Eh, che palle. Ok. Quindi? Grande. Ok. Ehi, guarda qui. Niente. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavo. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Ok. Dov'è che va? Dov'è che va? Dov'è che va? Trovata. No, aspetta. Ah, devo togliere l'ascensore però. Ok. Andata. Abbiamo ragione, Jeff. Una botola. Incredibile. Mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Uno, due, tre. Oh, per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. Nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. C'è un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Ehi. Oh. Oh, ok. Wow. Ma tu vieni, sì. Ah, ok. Sshh, demoni. Ah, beh... Oh, diavolo, hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili! Fermi! Giù dal camion! Siete tutti nel resto! Oh, che gioia! Va bene. Grande, un colpo da maestro! Cerco di dare una mano! Sarò io! Allontanati! Pricarico! Che fai? Ti metti in mostra! Au! Sono quasi colpito! Sono quasi! Mi allontano, lo stordisco! Ok, grande. Mi copro io! Ehi, grazie, amico! Ricarico! Sto mirando! Perfetto. Attento! Tempismo impeccabile! Sparo io! Allontanati! Ah, simpaticone, davvero? Visto? Anch'io qualche amico! Oh, cacchio, 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 cacchio! Via, via, via! Via! Oh, simpatia! Andiamo! Andiamo! Stiamo vincendo! Sto mirando! Entro di te! Sono io! Allontanati! Grande! Oh grande Ma andiamo a beccare Ah che cacchio Oh andiamo Che falle Sta attento Jeff Non fare sciocchiezi Ok ma dai 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 Ragazzi avete un posto in più Da quanto tempo È la tua fermata Oh per la miseria Fantastico per una volta alla tre in orario Ok È solo che ecco appunto Grande Minchia grandissimo Ok io sparerei adesso fossi in te Eh direi di sì minchia È stata una bomba L'agente è stato identificato come Jefferson Davis Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi E che si rimetterà completamente Scusi signorina Lei può stare qui? Più di te Dopo la casa d'aste Il bugle mi ha assegnato alla cronaca Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa E ai demoni Sai che più ti avvicini a loro più diventi un bersaglio Vero? Più mi avvicino Più sarà facile per noi fermarli Noi? Agente Davis Mary Jane Watson Daily Bugle No comment La capisco Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei E loro si nutrono di controversie La tua opinione? Non ne ho nessuna Se vuole l'ascolto Ok Salta su E' proprio brava Serio? Ok Beh Abbiamo fatto quello che dovevamo Allora Dove dobbiamo andare adesso? Devo tornare a casa e farmi una sana dormita Ok Sei caduto così proprio? Ah I luoghi che permettono il trasferimento veloce sono Oh Grande Grande Sono ora con tre segnati sulla mappa Ah Tieni per un moto X Eh Trasferiamoci qua Grande Sapete che me lo stavo chiedendo un paio di puntate fa Se ci fosse la possibilità di fare un trasferimento veloce da un punto all'altro Della ma... Pa Da così? In metro? Ah Ma come? Va bene Benissimo direi in effetti però ora che ci penso non torno a casa dalla prima puntata da quando sono uscito precipitosamente così ma dai minchia l'hanno sfrattato così? mi sa che eri un filino indietro sì salve sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa numero del cassonetto un secondo 64476 linea 33 il camion ha già concluso il turno se la tua roba non è lì ormai è tardi ehi ehi aspetta è importante puoi almeno dirmi dov'è il camion? vediamo allora dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bowery e Grand ricevuto grazie Eddie ok il pass comunale tra Bowery e Grand nessun problema d'accordo direi che possiamo andare anche questa è una missione seria effettivamente cercare di perdere qualsiasi cosa ma non la mia spy di chiavetta che vuoi che sia? devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate ci sono anni di ricerche in quella chiavetta tutto il mio lavoro dai tempi del liceo ah e l'hai lasciato tutto dentro una chiavetta? non sei un uomo ragno sei un uomo volpe oppla chiuso? ma certo non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia forse c'è un altro modo per entrare oh ecco qua trovato trovato se non rompo nulla nessuno può accusarmi di effrazione no? niente panico magari non hanno ancora scaricato la spazzatura nada ok sotto con il panico Empire Sanitation sono Eddie scusa è possibile che il camion non si trovi nel garage? sì certo deve essere da qualche parte nella zona ovest di Chinatown perfetto vado subito ok beh devo uscire da qua eh devo uscire di nuovo da dove sono entrato vero senti non sperarci troppo ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare ah sì? potrei cercarli in pizzeria sai quale di preciso? forse un posto a conduzione familiare Jerry's? no quello è a nord intendo il primo Jerry's ah giusto no inizia con la L se non sbaglio Larry's? è nell'Eastside da Lios Lios sì potrebbe aspetta quello deve essere il camion grazie Eddie figurati è in bocca al lupo deve esserci un camion mi imparazzi ok eccolo qua no la mia roba non è qui deve esserci per forza un altro camion guardami oh grande della mia roba non c'è traccia ma che odorino interessante Eddie sei la mia unica speranza è andata male eh? sicuro che siano stati qui beh forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne se il tuo camion ha seguito la linea 35 sarà già arrivato all'inceneritore l'inceneritore vicino al punto di Manhattan dovrai fare presto minchia ok andiamo 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 la serietà estrema della missione wow ok grande 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 oh ci sto proprio prendendo la mano ragazzi mi sta piacendo tantissimo questo gioco ragazzi è proprio bello ci sta poco da fare trasù da mainstream da ogni poro però onestamente è fatto proprio bene oh oh guai in vista aiuto posto grazie spiderman tutto bene sì grazie questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni e temo che presto ne arriveranno altri terrò gli occhi aperti ascolta ti spiace se cerco in giro degli effetti personali figurati intanto stilo il rapporto sull'incidente c'è qualcosa lì devo togliere di mezzo questi sacchi deve essere questo fa che sia qui fa che sia qui sì spero funzioni ancora che diavolo ok ora puoi creare la bomba ragnatela ok vai bomba ragnatela sbloccata si tratta di esplosivo di prossimità che avvolge istantaneamente nella ragnatela tutti i nemici nel raggio di azione vabbè mi sembra abbastanza buono vabbè sì adeguato che volevo dire lo spider drone lo creiamo ma sì creiamolo dai può comunque essere utile oh comunque i gadget li ho sbloccati quasi tutti a meno che non ci sia qualcosa che ancora non so non penso ci sono due punti abilità disponibili quindi quindi allora relenta il tempo appena prima di un colpo fatale fornendo un'ultima occasione per schivare eh oddio potrebbe essere interessante però ehm seconda proiezione ragno senza perdere quota non sarebbe male oppure portata eliminazione a sporgenza quando lancio un nemico vabbè facciamo questo va ok ah premi triangolo dopo una schivata perfetta contro nemici armati di fucilo pistola per eliminarli all'istante ah figo fighissimo ok ok questa è proprio bella guardate è l'idiota che crede di essere spiderman freddiamolo va bene ok allora bomba ragnatela grande che diavolo è successo perfetto direi che andrà oddio è bella sta cosa però ha preso una strana piega dove potrei andare a dormire magari da mj ah beh devo dire ragazzo che non ci hai messo molto a inventarti un posto adeguato per la nanna diciamo così povero assonnato va bene dice che ce la facciamo esatto va bene allora ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare qua per oggi abbiamo fatto abbastanza intendo continuare con le missioni principali perché prima voglio sbloccarle un po' di cose secondarie e poi ci faremo i nostri bei giretti quando ci sarà l'occasione per fare un po' di roba va bene ragazzi quindi direi che per oggi è davvero tutto mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie e qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale d'accordo ragazzi a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti